Il Sala con Silina fa suo il derby con la Sandra Bate e debutta davanti al pubblico di casa con una vittoria ottenuta in rimonta. 4-3 dopo essere andata sotto di due reti. Dopo un primo tempo quasi perfetto, la squadra ipina del tecnico Piero Basile chiusa in vantaggio per 1-2 e allungata ad inizio di presa quando gli avverinesi si sono portati sull'1-3. La seconda frazione è stata di Mar Casalese con il tecnico Cipolla il quale ha inserito tutti gli uomini della Rosa e il team dei presidenti Antonio e Giuseppe Detta ha compiuto l'impresa di ribaltare il punteggio e vincere 4-3. Per la cronaca partenza sprint per la Sandra Bate che dopo sei minuti sblocca il match con Galletto poi perde Giusema e è espulso per aver rimediato il secondo giallo ma nonostante l'inferiorità numerica regge l'urto e mantiene il vantaggio fino al 14-43 quando Baroni, complice un'indecisione del portiere Parisi, riporta il derby in parità. Equilibri che durano poco, più di un minuto, quando Ghi con una bomba precisa su punizione batte per la seconda volta fiusa e manda gli Irpini a riposo sul vantaggio di 1-2. Nella ripresa parte deciso lo sporting Sala Consilina a chi contato reclama una rete che per i direttori di gara non è tale nonostante la sfera avesse oltrepassato la linea di porta e paradossalmente dal possibile pareggio sulla ripartenza la Sandra Bate si porta sull'1-3 grazie alla rete di Kenji. Sala Consilina colpito ma non affondato. I padroni casa, spinti dal numeroso pubblico presente al Palace Arrufo, iniziano la rimonta prima con Achilli che accorcia al 6-20, poi Vidal al 12-50, firma il pareggio e Igor, a 4 dalla conclusione, opera il ribaltone e regala la prima vittoria stagionale allo sporting Sala Consilina. La Sandra Bate rimedia la sua seconda sconfitta della nuova stagione di Serie A di Futsal.